Per me è facile quando sono davanti a una volta nella presa e dico delle battute scritte per me e le dico in tutto il cuore, ma qui di amore ce n'è stato tanto questa mattina soprattutto per il sindaco, ho detto delle cose bellissime poi è tornato a lui Allora, signor, signor, autorità, cari amici tutti ricevere un premio è sempre un'emozione speciale ma riceverlo qui, nella Napoli a me, tanto cara, da sempre, da quando sono nata tutt'una con la mia porzione è molto più è una soddisfazione intima che mi gratifica il mio animo e che mi accompagnerà a lungo Tutto di questa giornata ricorderò a lungo, appena sono arrivata percorrendo queste amate strade per l'ennesima volta che mi ricordano la mia infanzia la mia adolescenza i primi film la pizza dell'ordine insomma, agli inizi della mia vita e della mia carriera cercavo di memorizzarle metro per metro per raccorsare il ricordo fissarle nella mente e portarle con me per sempre Tutto è magnifico oggi, Napoli questa cerimonia questo bellissimo premio questa vostra accoglienza la sfilata di mora di dolce cabana con gli splendidi abiti perché queste giornate hanno un tempo e non durano le incidenti? grazie grazie di cuore a tutti e grazie alla mia cara Napoli io ci vengo sempre molto spesso grazie di cuore a tutti grazie di cuore a tutti bellissimo, bellissimo per la parola grazie ancora per la nuova pazienza perché è stato veramente splendido e per il vero grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti